Ciao Davide, aggiornamento per la tua Range Rover Velar è inutile dirti che un pochino di batticuore viene perché questa macchina ha un'elettronica pazzesca non abbiamo margini di errore abbiamo smontato tutti gli sportelli abbiamo smontato tutto il cruscotto e poi andremo a smontare tutto il tunnel centrale e poi cosa facciamo? su ogni punto luce dovremo andare a portare un'alimentazione, un sottoquadro e poi ce la studiamo per bene perché andremo a fare anche le bocchette d'aria questa è una sorpresa che ti voglio fare, ci stiamo lavorando ma penso che ce la faremo e poi oltre il pacchetto luci ambient, quindi renderemo la tua macchina unica perché questa macchina se hanno il pacchetto luci ambient ce l'hanno solo monocolore come la tua noi lo andremo a rendere multicolore come originale con qualche altro punto luce in più che darà un effetto spettacolare e poi ovviamente andremo a montare i monitor poggia testa 13.6 pollici Android, un capolavoro e niente, io ti ringrazio per la fiducia siamo pronti, ci stiamo lavorando e vedrai che verrà uno spettacolo un abbraccio e grazie un abbraccio